Tra i siti di interesse culturale di Nocera Inferiore è il Castello del Parco di epoca medievale e il Palazzo Fienga, Palazzo Signorile Ottocentesco che è stato costruito successivamente. Un'area che necessita di interventi, ci sono delle emergenze, bisogna spingere per il restauro conservativo della struttura. L'associazione Ridiamo Vita al Castello, un'associazione di giovani del territorio che si sta muovendo con una serie di attività e di iniziative in questa direzione. Crediamo che qualsiasi tipo di intervento e qualsiasi tipo di attività sullo stesso passi prima dal fatto che i giovani e i cittadini nocerini si appassionino al castello e si innamorino del castello, ma prima conoscendolo. L'attesa di azioni già promesse dall'amministrazione di Nocera Inferiore e dalle istituzioni che mettono in sicurezza il castello, ciò che possiamo fare per tenerlo in piedi adesso e ciò che possiamo fare per far sì che questo posto vive, che questo posto resti nella memoria dei nocerini e fare la nostra restaurazione personale come associazione che è quella della memoria del castello. Uno dei progetti dell'associazione Ridiamo Vita al Castello è il recupero di alcuni affreschi che si trovano sotto la torre del castello del parco. Qual è lo stato di conservazione attuale e quali sono gli interventi necessari? Lo stato di conservazione attuale di questi affreschi è davvero pessimo. Questi affreschi sono molto importanti. Furono ritrovati alla base del donjon della torre pentagonale, simbolo della città di Nocera Inferiore. Tramite dei confronti con iconografie molto simili dell'abbazia di Sant'Angelo Informis in Capua, a Capua relativi al XI secolo, è stata avanzata una datazione per gli affreschi di Nocera, dunque di epoca desideriana e quindi Longobarda. Se attestata, se confermata questa datazione, gli affreschi di Nocera rappresenterebbero l'unica testimonianza di epoca Longobarda presente sul territorio di Nocera Inferiore. L'associazione Ridiamo Vita al Castello l'anno scorso iscrisse la struttura, il castello del parco, al concorso nazionale indetto dal FAI, i luoghi del cuore. Non abbiamo purtroppo vinto la classifica, il concorso, ma abbiamo avuto la possibilità di scrivere un progetto per un recupero di una parte della struttura. E noi abbiamo scelto questi affreschi tramite la sovrintendenza, è una ditta specializzata in restauro di Salerno, abbiamo scritto questo progetto di recupero. Purtroppo non è stato accettato, non è stato accettato dal FAI, ma noi comunque speriamo di poter ottenere dei finanziamenti, ora pubblici, ma chissà anche tramite benefattori privati, per il recupero di questi affreschi che vanno salvati e di tempo ce n'è davvero molto poco.